ciao a tutti io sono Matteo Gamannossi di Orvitalia 24 e oggi siamo qui a intervistare Gianluca Mangiasciutti per il suo film che uscirà il 7 dicembre che è l'uomo sulla strada film che abbiamo già recensito di cui trovate già la recensione no spoiler in pagina e un film su cui appunto adesso Gianluca ci racconterà qualcosa nella mia recensione io ho parlato di l'uomo sulla strada come un thriller un po' atipico in quanto appunto è un thriller che diciamo mette al proprio centro i personaggi crea personaggi che sono interessantissimi personaggi stidimensionali su cui poi appunto viene impostata la narrazione io volevo innanzitutto chiedere a Gianluca che non è autore della sceneggiatura se collaborato collaborato ok e quindi quali aspetti diciamo ti hanno attirato ti hanno colpito di questa sceneggiatura quando quando l'hai presa in mano per la prima volta che tra l'altro questa sceneggiatura ha vinto miglior soggetto al premio Solinas nel 2010 giusto ok quindi quali aspetti ti hanno ti hanno colpito e ti hanno convinto a prenderle in mano e poi a farci il film in realtà era una storia di di anime sole di che raccontava un po' outsider le persone rotte e nell'intimità nel background e quindi in realtà mi ero molto era molto attirato da questa da questa aurea che c'era rispetto al racconto e poi se vogliamo loro sono molto differenti tra loro perché comunque sia per background che per carattere sono totalmente agli estremi però nonostante questo poi si forma una chimica tra loro due che è fondamentale poi nel racconto è un crescendo di le emozioni e quindi anche l'ambientazione fatto che ci fosse anche una disciplina all'interno del del progetto stesso perché trovo molto interessanti film dove ci sono delle dinamiche performanti infatti come di sfondo diciamo c'è il nuoto in questo caso e quindi ho pensato che poteva essere l'opera prima adatta a me poi mi fu proposta da loro perché avevano visto dei cortometraggi tra l'altro uno dei miei corsi insomma che era andato meglio era uno sul nuoto che era stato proprio il mio primo corto e fu poi candidato a David Donatello al globo d'oro e quindi loro dissero sì guarda vorremmo fossi tu regista e poi siamo andati avanti negli anni insomma è stata lunga ok un'opera prima coraggiosa perché insomma iniziare con un film di genere non è mai non è mai facilissimo penso soprattutto nel panorama italiano e ti volevo chiedere allora ovviamente stavi parlando appunto dei due personaggi no che sono Irene e Michele che sono appunto i due protagonisti in discursi no e ti volevo chiedere diciamo il loro rapporto è molto molto complesso diciamo tutto il film è costruito sul loro rapporto è un rapporto in continua evoluzione e che cambia continuamente no si conoscono quasi per caso ma in realtà è le loro vite sono collegate fin cioè da ormai da tanti anni no anche se non lo sanno e poi da loro si sviluppa questo rapporto che è un po' un rapporto di attrazione repulsione per un attimo si avvicinano poi si allontanano anche perché appunto hanno un passato che conosceranno almeno che Irene conoscerà alla fine che però appunto da cui non si può effettivamente prescindere e come è stato raccontare questo rapporto e come è stato soprattutto dirigere due attori che a parer me hanno fatto due ottime interpretazioni quindi questo come sappiamo è spesso merito del regista almeno anche merito del regista e quindi come è stato costruirli e dirigerli in questo rapporto? Allora che siamo di regista sì ma non viene quasi mai riconosciuto perché quando un attore recita male è colpa del regista se recita bene è una buona prova attoriale dell'attore quindi non viene mai diciamo beh io lo vedo adesso lo sto vivendo sta avvenendo questa cosa me ne sto accorgendo attraverso le recensioni che poche volte insomma viene viene sottolineata questa cosa però va bene non c'è assolutamente problema e rispetto agli attori beh Aurora già la conosciamo perché aveva fatto il mio secondo cortometraggio quando aveva 13 anni e quindi già conoscevo un po' di lei sapevo dove che corda deve andare a toccare e poi è esplosiva un talento naturale nel senso quindi molto fisica quindi era perfetto per un personaggio del genere Lorenzo non lo conoscevo è la prima persona che ho provinato non ci avevo neanche pensato a lui come ruolo poi mi fu proposto dicendo ok vediamolo e appena ci fu il provino io capì insomma che lui aveva beccato diciamo il personaggio ma nonostante poi fosse ancora molto embrionale fosse anche anche per me era un approccio primitivo perché comunque era il primo provino che è la prima volta che provavo la scena con Lorenzo quindi anch'io mi devo ancora livellare però nonostante questo invece c'era stata subito sintonia e rispetto al loro rapporto nel film avvicinarsi è c'è dall'inizio c'è diffidenza perché comunque lui capisce subito che lei fa di tutto per cacciarla via ma c'è ma c'è questa forza prorompente che lo assale a livello di rimorso perché in qualche modo non vuole farle male quindi allontanarla sarebbe sarebbe darle per la seconda volta una sofferenza e quindi a quel punto cerca di di farla rimanere eh proteggendola eh ma questa protezione poi logicamente Irene non la intercetta nel modo eh dovuto quindi è è un po' rispingente poi capisce invece che si può fidare di questa persona e automaticamente in modo inconscio scatta eh pian piano questo eh questa empatia ma anche questa attrazione fisica poi a un certo punto esplode in qualcosa eh per cui va risolta e comunque c'è ehm a volte viene mossa la critica una delle tante critiche delle poche critiche del film è sempre eh ma sappiamo da subito chi è l'assassino ma il fuoco di questo film non è chi è l'assassino perché lo sai capisce subito il fuoco è Irene si innamora dell'assassino di suo padre ok e per tutto il film tu sai questa cosa che succederà e quando succede e quando lo scopri che c'è cosa accadrà tra loro due cosa succederà soprattutto sarà Michele a dirglielo lo scoprirà lei cioè quello il fuoco e quanto andrà avanti questa cosa quindi non credo che sia importante scoprirlo primo dopo l'assassino cioè non è non è quello il centro del film questo vorrei precisare no infatti infatti non è il centro del film e lo si percepisce chiaramente nel senso che è facile raccontare una storia è più difficile raccontare due due personaggi se sono due personaggi così complessi no nel senso che io ho definito nel mio articolo Irene come un personaggio melanconico a livello lacaniano nel senso che è un personaggio che non riesce ad andare avanti è un personaggio che è rimasto intrappolato nel passato eh non studia l'unica 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 cosa che è un po' la la porta alla vita normale è il muoto no per il resto è intrappolata ed è legata da un passato che non le permette di di andare avanti è proprio là in catena ehm sì il nuoto le dà il nuoto scusami il nuoto le le dà modo di tornare a quella dimensione che le apparteneva quando era piccola ma soprattutto il il fatto che sott'acqua ci sia un annientamento del suono ehm della forza di gravità è come se come se la sospendesse temporaneamente no da una da una da una condizione di vita che che non che non le appartiene insomma che le sta scomoda quello quello senso. Certo infatti è molto interessante molto interessante anche il fatto tutte e due le rappresentazioni dei personaggi sono interessanti perché sono due personaggi che sono diversi molto diversi e che in un certo senso si completano e il fatto che si sappia subito che che Michele insomma è l'assassino del del pare secondo me non toglie niente al film perché non è quello appunto il centro del film. Il centro del film è il racconto di questi due anni mi sole e secondo me sei riuscito molto bene in questo. Volevo appunto poi passare da al più alla alla regia alla regia che mi ha sorpreso molto ti faccio i complimenti subito perché grazie sono rimasto sorpreso in particolar modo da tutta la regia ma in particolar modo dalla prima scena e dal quasi quasi finale insomma dalla sequenza più adrenalinica del film. Allora la prima scena secondo me appunto registicamente è ottima ma il finale ancora più finale c'è quel montaggio alternato tra passato e presente no? Sono tutte e due in macchina di montaggio alternato che è davvero adrenalinico e funziona funziona perfettamente e vabbè a partire da questa riflessione ti volevo chiedere se in generale a livello registico quali sono le sue ispirazioni film che ti hanno ispirato oppure autori che ti hanno ispirato insomma dimmi tu ma diciamo gli autori che mi hanno rubato negli ultimi anni un po il cuore negli ultimi anni gli ultimi dieci anni dieci quindici anni sono sicuramente odiati Jacques odiard ma diciamo che c'è poco di lui in questo film con tutto il rispetto e mi riferisco a Lugine e Oss altri film del genere e poi un altro regista che mi piace tanto dal suo primo film è Lucas Donth non so se lo conoscete? Lucas? Lucas Donth ha fatto Close adesso che era anche ad Alice ha vinto il Grand Prix a Cannes e poi ha fatto Girl che era un altro film che vinse del Camerador sempre a Cannes e lui è bravissimo nel senso è belga e quindi c'è questo cinema diciamo nord europeo che però è molto più pop non è quel cinema francese o nord europeo troppo d'autore è semplice a livello registico non c'ha autocelebrazioni a livello tecnico quindi c'è mi piace sta molto sugli attori che sta sulla recensione c'è sta sulla storia nel senso ti ti mette nell'atmosfera a modo istantaneo e soprattutto senza che tu te ne accorghi ecco questo questo è le regie un po' invisibili sì 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 ok quindi insomma non c'è ma ce ne sono tanti ce ne sono tanti poi se vai all'estero oppure per carità però insomma è inutile citare i soliti mostri sacri insomma no certo ma anche perché poi ti farò una domanda proprio di questo tipo su ma ne parliamo dopo allora volevo poi sapere immagino appunto che girare ma in generale realizzare un film dal primo passo all'ultimo sia un processo molto complesso e faticoso volevo sapere quali sono le state le difficoltà più grandi nel processo di ma anche cose se non ti hanno riguardato proprio prima persona ma anche a livello più di produzione per produzione post produzione oppure a livello appunto della messa in scena vera proprio del film del girare il film insomma in generale no a livello di di girare il film non ci fosse più facile è stata quella di fare il film quando comunque tutto dipende da te e tutti dipendono da te la fase tostissima è l'attesa anche la post produzione devo dire che mettere insieme 20 test 30 testa post produzione suono montaggio mix audio doppiaggio quello c'è quello stato pure abbastanza faticoso proprio a livello umano bella attesa è lunga perché poi tu c'è in mente degli attori ma poi va capito se sono liberi se ti dicono di sì quanto costano anche mettere d'accordo produttore con gli autori insomma quella tutta la fase in cui non dipende tutto da te quindi quella è la fase che io soffro di più perché non posso dettare i tempi e sto a ricasco degli altri quindi invece il girato preparazione non l'ho sofferta assolutamente insomma bene allora l'offera prima è stata quindi un thriller no un thriller un po diverso abbiamo detto però un thriller cosa ci aspettiamo per il futuro un proseguo su questo genere oppure ti piacerebbe anche confrontarti con altri generi insomma no sicuramente vorrei sempre una storia fosse un pugno allo stomaco anzi ancora forse di più mi piacerebbe proseguire o su un film che raccontarsi sempre una disciplina sportiva però molto più drammatica adesso sto cercando di ragionarci su oppure un film sugli anni settanta una storia che già ho scritto da tempo con la sceneggiatrice dell'uomo sulla strada è una cosa che sta lì sempre da dieci anni però è molto una storia un po tosta da fare insomma è un tipo di cento passi insomma siamo proprio su quel livello lì di film quindi la storia realmente accaduta ci ho messo tanti tempi per tanto tempo per scriverla quindi quello è un po più difficoltoso magari non è un'opera seconda però adesso sto un attimo ragionando ma non voglio fare il secondo sì nel senso c'ha c'ha voglia bisogna lavorare quanto prima però neanche a buttarsi via insomma cioè adesso ho fatto un film abbastanza intenso vorrei rimanere su quell'intensità anzi salire sinceramente quindi adesso capiamo certo no no un film molto intensa appunto io rimango tengo il focus su su questi personaggi ecco perché io penso che sia facile più raccontare una storia che raccontare dei personaggi e non so se com'è a livello registro poi riuscire effettivamente a rappresentare quello che un personaggio sente che su una sceneggiatura scritta parole ma come lo rappresenta a livello registro cioè com'è ma per esempio la scena finale sono tre righe sul copione sono tre righe contate cioè lui sta sistemando una cosa lei entra lo guarda si dicono ciao finisce e lì dura dura due minuti e mezzo quasi capito cioè è tutta una è tutta un'atmosfera che cresce piano piano e perché non poteva finire così di botto quindi lì lì c'è tanto la regia come ma come la sequenza iniziale quando lei fa tutto il corritorio dopo dieci anni nel senso lì era semplicemente lei che entra in piscina e fa quello invece secondo me era cioè che ci accompagnava nel passaggio temporale durante tutto il percorso e poi l'ho e poi l'ho replicato quel percorso lì pure dopo cinque anni la seguiamo sempre di spalle che lei va quindi queste cose non esistevano è che gli ho dato io diciamo colore ecco certo infatti la scena finale ora non voglio dire tanto perché altrimenti se qualcuno che non ha visto il film guarda questa intervista rischia di insomma scoprire troppo però ecco la scena finale soprattutto se mi dici che erano due due righe di sceneggiatura in realtà comunica tantissime cose ecco lascia si scoperto è però c'è la aperta anche l'interpretazione però comunica tantissimo a livello di di messa in scena quindi ora volevo volevo chiederti se appunto abbiamo detto prima prima opera un thriller e quindi coraggioso e perché comunque appunto nel nel nostro panorama purtroppo il cinema di genere insomma no riscontra sempre diversi problemi e ti volevo chiedere se tra le opere appunto thriller quindi di genere uscite negli ultimi anni in italia cosa hai apprezzato particolarmente se ci sono appunto film che mi ha colpito sì eh beh italiane un po no mi piace tantissimo per esempio la ragazza del treno che non è italiano logicamente eh italiano diciamo di no che in quella direzione un pochino sono i fratelli di innocenzo che sono molto bravi non non è non è propriamente thriller anche se adesso in realtà stanno facendo una serie credo sia thriller loro sì loro si sono riusciti ad avvicinare poi stimo tantissimi altri registi eh come saverio costanza un altro registro invece tantissimo lo stesso per lo ne dico però non si avvicina nessuno verso quella cioè dobbiamo andare un po all'estero se per per palpare diciamo quel tipo di genere in modo esatto sì ecco appunto ora proprio a nome della redazione di oro di sale 24 volevo farti una domanda appunto sul genere thriller ed horror all'estero c'è tantissima produzione ovviamente non si parla solo gli stati uniti ma anche francia mi viene in mente insomma tantissimi tantissimi paesi e quali appunto film ti hanno colpito questa è una domanda che prescinde un po dal punto dal tuo film in particolare di questo genere sia volendo anche in italia mi abbia detto che in italia insomma all'estero quali ti hanno colpito di questi generi cioè horror e thriller film negli ultimi ma posso andare anche molto indietro no sì 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 libero vabbè nel senso io sono amante del cinema di carpenter quindi figurati nel senso che non è propriamente non è propriamente horror insomma è strano siamo un po un ibrido insomma vengo al cinema lo conosco benissimo mi piace preferisco quei film di horror dove non ci sono molti effetti c'è per esempio per me Blair Witch Project non so se ti ricordi se l'hai mai visto secondo me era un film che comunque ti teneva lì e c'avi paura comunque mentre mentre lo vedevi eppure in realtà non è che accadessi o tu vedessi troppo cioè era proprio fatto sull'atmosfera vabbè fa lo stesso hit anche quando l'hanno rifatto e tranne insomma che il finale che da buttar via ma lo sappiamo insomma è nel libro quindi non ci si può fare niente però horror negli ultimi anni cioè non c'è mai qualcosa che mi colpisce poi io poi in realtà adesso mi hanno anche chiesto ultimamente senza far nome mi hanno chiesto ai qualcosa di horror perché in italia ci abbiamo bisogno di fare roba e io ho detto no non ce l'ho nel senso mi piacerebbe tanto fare un figlio che poi lo conosco bene nel senso quindi ho visto tante cose però poi non è che sono mai colpito che dice ok finito quel film e stai svegli a pensarci non è difficile mi rimanga un press un film horror perché non li trovo poi così ben fatti ma anche alle cose molto effetti ma poi in realtà non c'è ma alla fine la sostanza ce n'è poca sì 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 purtroppo in modo di produzione è così qualcosa di interessante appunto esce e ora mi viene in mente non so se hai visto man di garland mi dicono un po deludente però lui è lui non so sicuro che non sarà deludente cioè lui è bravissimo Alex garland quindi sì insomma qualcosa di buono c'è che esce ogni anno infatti per fortuna per fortuna non solo con più sei grafica allora insomma volevo concludere l'intervista se ti vuoi aggiungere qualcosa di che non ti ho chiesto vuoi fare qualche osservazione qualcosa dire qualcosa al pubblico che ci guarderà no solamente una cosa ma intanto beh spero che non ci aspettiamo chissà quale incasso perché usciamo in un periodo caldo dicembre pieno di film spaventosi insomma però mi appello insomma la non picrizia della gente di magari di andare a vedersi un film un'opera prima insomma di abbiamo bisogno di senza pubblico non saremmo niente e poi anche un appello a quelli che ogni tanto scrivono recensioni cattive che il cinema è l'arte è una cosa soggettiva il cinema lo è ancora di più però si può anche criticare senza scrivere cose cattive perché poi uno non sa dietro a quel film quanti anni quanta sofferenza c'è stata per mettere su un progetto quindi la trovo un po' una cosa gratis insomma mi ripresca due tuoi colleghi senza fare i nomi però insomma basta andarla a vedere su internet insomma sono sono due diciamo le recensioni cattive uno ha provato a darmi del mocha io l'ho preso invece come un complimento perché insomma avessi fatto il se facessi insomma il il successo che ha fatto mocha insomma a livello mediatico sì sarebbe buona cosa parli là che abbiamo un approccio un approccio totalmente differente però secondo me non serve c'era cattiveria a che pro mi chiedo ecco no sono d'accordo sono d'accordo assolutamente non dietro si può criticare ma sempre rispettando appunto la sofferenza il sudore il lavoro che c'è stato dietro un film quindi concludo dicendo appunto invitando appunto le persone andare a vedere al cinema il 7 dicembre in regioni successivi l'uomo sulla strada che di cui appunto ricordo potete leggere la recensione storia 24 e un film appunto che vi sorprenderà sorprenderà chi anche se gli si aspetta di trovare il più classico dei thriller che invece anche già ascoltato e letto e quindi sa ritrovarsi davanti a qualcosa di diverso e vi consiglio di andare a vederlo per per una serie di motivi tra la regia le interpretazioni insomma abbiamo abbiamo qua già detto tutto e appunto soprattutto per questi due personaggi personaggi che nel che sono appunto Irene e Michele che nel cinema italiano vediamo sempre meno ci troviamo spesso di fronte a macchette invece in questo caso ci troviamo di fronte a due personaggi tridimensionali scritti bene e rappresentati ancora meglio quindi vi invito ad andare al cinema e a farci sapere poi cosa pensate del film vi ringrazio ringrazio Gianluca ringrazio e vi saluto grazie tante grazie ciao ciao